Un furgone con targa romena che conteneva 94 pannelli solari, risultati rubati in provincia di Como, è stato fermato dalla polizia stradale nei pressi dell'ex valico confinario di Fernetti. Il conducente, un cittadino rumeno di 28 anni, è stato denunciato per recitazione. L'operazione si è svolta il 17 gennaio scorso ed è stata resa nota soltanto nella giornata odierna. I pannelli stivati all'interno del furgone avevano i cavi elettrici di collegamento recisi. Anche i documenti di trasporto esibiti dall'uomo apparivano sospetti. Un controllo successivo ha fatto emergere che i pannelli erano stati rubati da una ditta con sede nel Comanesco ed erano stati destinati per il mercato dell'est Europa per un valore commerciale stimabile in alcune migliaia di euro. Il furgone e la merce trasportata sono state quindi sottoposte a sequestro penale e messe a disposizione delle autorità giudiziarie, mentre il cittadino rumeno è stato denunciato in stato di libertà.